Buongiorno a tutti, benvenuti, mentre entrate in aula vi chiedo di darmi conferma, se mi sentite mi vedete correttamente. Buongiorno, sono Roberta Crudelle, sono responsabile dell'azione 1-3 del progetto riformativa e introduco questo sesto webinar del ciclo di webinar organizzati da quest'azione, che come sapete è all'obiettivo di dare strumenti alle pubbliche amministrazioni per un uso professionale e consapevole dei social media. Oggi parliamo di LinkedIn, che è uno strumento particolare, nel senso che forse è destinato a un pubblico, un'utenza meno generalista, quindi a un pubblico un po' più profilato di professionisti e può essere uno strumento molto utile per le pubbliche amministrazioni, anche per raggiungere degli stakeholder o delle fasce dei target più specifici. Comunque, questo strumento che verrà approfondito oggi è il quarto strumento che approfondiamo in questo ciclo di webinar, abbiamo parlato di Twitter, di Instagram e di Facebook e con l'appuntamento su LinkedIn si conclude questo primo blocco dedicato all'esame di specifiche piattaforme. Riprenderemo con i prossimi appuntamenti a parlare invece di tematiche più trasversali, per cui i prossimi temi che andremo ad affrontare saranno social media policy, analytics e inserzione a pagamento. Parleremo poi di diritto d'autore, che abbiamo visto è un tema su cui avete posto anche nei precedenti appuntamenti diverse domande, proprio per avere delle indicazioni per un utilizzo consapevole delle immagini e in generale dei contenuti sul web e sui social. E poi infine chiuderemo con un webinar dedicato invece alla trasparenza, quindi poi ai social media. Adesso, mentre vedo che state facendo numerosi accesso, introduco quindi Gabriele Paramara, che è social media manager e digital specialist per il MISE e lascio subito la parola a Gabriele. Vi ricordo che nella pagina da cui vi siete registrati potrete scaricare la registrazione. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, vedo che siete tantissimi e cercherò di accompagnarvi in questi 90 minuti di lezione con riformativa. Sicuramente cercherò di essere il più chiaro possibile e sbizzarritevi con le domande, con quello che può essere, cercherò di rispondervi work in progress a tutti quanti. Poi quando me ne perdesse una, fatemelo presente perché cerco di guardare più schermi in contemporanea. Allora, spero che abbiate un'infarinatura generale su LinkedIn, tutti quanti, sicuramente è un canale importante. La lezione, sostanzialmente chiamare così, partirà da una spiegazione generale sul ruolo svolto dai social, sull'importanza svolta dai social, faremo una breve analisi sui dati e su quello che ci dice sostanzialmente lo stato dell'arte pre-covid e post-covid e poi cerchiamo di andare un attimo nel dettaglio per analizzare un attimo le particolarità di LinkedIn. Come ci diceva giustamente Roberta, un canale dedicato e aperto sostanzialmente al mondo dell'impresa, al mondo del lavoro, anche se non è da sottovalutare il concetto di Facebookizzazione dei social e quindi anche come un canale come LinkedIn nel corso del tempo, nel corso degli ultimi 5 anni, si è avvicinato molto a delle dinamiche legate a imposte sostanzialmente dalla piattaforma madre che è Facebook. Allora nel dettaglio cosa posso raccontarvi? Come si evolvono i metodi digitali? Trasformano il nostro modo di lavorare, il modo in cui viviamo, il modo in cui acquistiamo e il modo in cui interagiamo. Sicuramente sentiamo parlare sempre di più di case, città intelligenti e atteggiamenti dinamiche che influenzano quindi il modo e l'approccio dei consumatori, aumentando quindi in maniera sistemica l'importanza del digitale. Vi dico questo perché sicuramente in un mondo post-Covid, in un mondo che è stato trasformato negli ultimi 10 mesi anche dal punto di vista digitale, questi sono approcci che dobbiamo considerare. Dalla piccola comune alla piccola struttura di pubblica amministrazione presente sul territorio si può avere sicuramente delle informazioni fondamentali proprio attraverso i social network che oggi svolgono comunque sia un radicamento, una presenza importante anche a livello sociale. Cosa succede nel 2020? Tutto quello che era familiare fino a gennaio, febbraio è stato totalmente scolvolto al di là di ogni immaginazione. Il Covid ha sdoganato concetti come le dirette, la possibilità di interfacciarsi direttamente online, di interagire in gruppi, la possibilità di reperire e dialogare in maniera sempre più rapida attraverso e tramite i social network e quindi tutto questo ha avuto un effetto dirompente, in alcuni casi anche destabilizzante, verso la stessa comunità digitale. I social in tutto questo hanno giocato un ruolo centrale. In una situazione comunque drammatica come quella del Covid, i social hanno rappresentato comunque un collante importante nelle differenti piattaforme per dialogare con le persone. Quindi si è stata abbattuta sostanzialmente l'idea che gli schermi social abbiano impatto negativo sulle nostre relazioni offline, mentre le persone hanno iniziato a superare l'inerzia legata agli strumenti, che sono sempre diventati più vicini alle persone, sempre più umanizzati e hanno favorito quindi sempre più interazioni digitali. Un escluso sveloce su social di cittadinanza e social funzionali. È importante per riuscire a capire all'interno del settore scenario in cui ci inseriamo. Abbiamo social di cittadinanza, tra cui lo stesso LinkedIn e potete vedere che nonostante la fotografia sia di qualche anno fa, noi usiamo più volte al giorno questi social di cittadinanza come social funzionali che invece sono Telegram o WhatsApp. Questo ecosistema è fondamentale per riuscire a capire ogni amministrazione pubblica, sostanzialmente o niente, come vuole essere presente in termini di strategie e di operatività all'interno delle piattaforme social. Nello specifico quindi noi vediamo come LinkedIn sia una piattaforma in crescita, sia una piattaforma presente e sia una piattaforma che venga utilizzata anche più volte al giorno dalle persone. Come cambia il communication mix? È una fotografia veloce per farvi capire come cambia, questa è una fotografia di un mese fa, elaborata dall'Ipsos, di come la presenza sui social media cresca in maniera esponenziale e soprattutto nel periodo post Covid, quindi quando una moltitudine di persone è in grado di seguire webinar, di essere presenti sui social media e di rimanere informati tramite parole chiave o tramite degli influencer di riferimento. Sicuramente il ruolo che viene svolto da LinkedIn come pubblica amministrazione è fondamentale, soprattutto in termini di network e di partnership per rilanciare anche informazioni di dominio nazionale sul proprio territorio, contestualizzandole o lavorando anche in rete, perché molti cittadini, molti imprenditori, molti lavoratori sono presenti su LinkedIn a maggior ragione periodo di crisi economica. Quindi vi ho già detto che tutto quello che era familiare è stato sconvolto, abbiamo sicuramente i social che hanno svolto un ruolo importante in una situazione molto difficile e cosa cambia? Cambia il nostro rapporto con questi canali che hanno subito una trasformazione irreversibile e come li usiamo, come li gestiamo, con che tipologia di approccio ci interfacciamo a questi social network. L'inerzia è stata superata quindi grazie ai contenuti come le dirette, i live stream, si passa da una piattaforma all'altra, da Zoom, siamo diventati tutti esperti di Teams, abbiamo riscoperto Skype che era stato in disuso per parecchi anni, fino a poi non scoprire lo shopping online, citofonare da Amazon piuttosto che altre specifiche inerenti la realtà aumentata. Cambiano sostanzialmente i comportamenti dei cittadini. Questa fotografia è importante, la dovremmo confrontare, dovremmo avere il piacere di rivederci magari a gennaio 2021 per vedere come esploderanno i dati successivamente a marzo 2020. Qui vedete come LinkedIn sia sostanzialmente la settima piattaforma nazionale, successivamente solo a canali madre come YouTube, Whatsapp, Facebook e Instagram e quindi è una piattaforma altamente in crescita. Cambia il concetto di rete sociale, le relazioni iniziano si sviluppano anche su LinkedIn, su Instagram, su Facebook e viene sloganato anche il concetto di canali come Facebook e Instagram legati sostanzialmente a specifiche fasce d'età, perché il digital divide in questi ultimi sei mesi si è ridotto pesantemente, favorendo quindi un avvicinamento anche intergenerazionale. È una capacità quindi di studiare, di adoperarsi di comprendere maggiormente piattaforme differenti, per rimanere comunque sia anche in contatto con le dinamiche di competenza. Quindi i canali digitali hanno svolto e svolgono tuttora un ruolo fondamentale per creare la comunità, per creare partnership e per conoscere il proprio territorio. Quello che è sicuramente importante è l'evoluzione che c'è stata di canali come TikTok e Twitter che sono pesantemente esplosi. È vero che si parla di una decrescita sistemica di Twitter negli ultimi anni. Ciò non è vero perché i dati dell'ultimo semestre dimostrano come lo stesso Twitter sia cresciuto rispetto a altri canali. Sicuramente vengono utilizzate per reperire informazioni, come vi dicevo io prima, per recuperare sicuramente contatti, per recuperare e per essere in comunità. Qui vedete il ruolo svolto da Twitter. Twitter è cresciuto del 24,2%, mentre TikTok è cresciuto del 475%. Stiamo parlando dell'analisi marzo 17-marzo 2020, con una crescita esponenziale nell'ultimo anno. L'Incheidine è cresciuto anche lui del 19,5%. Questo fa ben capire qual è la portata della piattaforma e di perché si possa e si debba utilizzare una piattaforma di questo tipo. Sostanzialmente ci sono 45 milioni di italiani che sono connessi nel giorno medio a marzo 2020, con 103 di sole di navigazione di media nel mese di marzo. Sono dati allucinanti, dati altissimi. Sicuramente la pandemia è stata analizzata anche in termini di digital e social e con l'approccio anche al consumo delle notizie. pensiamo alle dirette del Presidente del Consiglio dei Ministri, per lanciate su tutti i social e in diretta su televisioni e radio. Pensiamo all'interazione che è nata da questa digitalizzazione e da questa presenza social. Giuseppe Sorvillo scrive, per cortesia non si avvicini troppo al microfono perché grazie a l'audio. Perfetto, hai fatto bene a dirmelo. Grazie mille. Spero che allora mi sentiate così. Grazie per la segnalazione. Ok, come crescono i social network? Anche qui una breve panoramica e potrete vedere che l'Italia, che con la nostra linea rossa, cresce in maniera regolare, costante, raggiungendo comunque livelli importanti rispetto al resto dei paesi e dei competitor europei, preceduta solo dalla Spagna, altro paese latino. Questo ci porta a capire perché in Italia, anche per una traduzione nostra di interfacciarci, di relazionarci in comunità, è importante riuscire a essere presenti sui social per sopperire a quelle mancanze di comunità determinate dal lockdown e dal distanziamento previsto dal Covid. Quindi, come vi ho già detto, le persone cercano di essere sempre più presenti sui social, avvicinandoli, studiandoli, cercando di interagire il più possibile con queste dinamiche. Abbiamo la trasformazione che ci è stata sui social con le moticon per facilitare anche le interazioni, rendendole sempre più intime. Abbiamo sicuramente, siamo sempre più consapevoli e desigenti del rispetto, delle pertinenze, delle qualità però dei contenuti. Il contenuto che viene esportato e che viene trasportato anche con i social media è fondamentale, perché in un periodo di maggior attenzione, in un periodo di maggior sensibilità verso la comunicazione digitale, in un periodo in cui tutti gli occhi sono puntati verso i social network, i contenuti devono essere all'altezza. Quindi vuol dire che dobbiamo prestare grandissima attenzione a ogni piccolo dettaglio, dalla scelta del cancelletto, su LinkedIn, piuttosto che su Facebook, piuttosto che su Twitter, il cosiddetto hashtag, al link di riferimento, preferendo magari short link tramite Bitly, ad esempio la descrizione dei contenuti che sia il più chiara ed esortiva possibile, che sia diretta, che sia semplice, di facile comprensione, perché questo ci permetterà di ingaggiare sostanzialmente e fidelizzare il nostro, passatemi in termine, cliente, il nostro collega, il nostro consumatore, il nostro cittadino, affinché possa iniziare a diventare un follower, un follower anche partecipe, come se fosse proprio una propria comunità online. Quindi questo è un aspetto fondamentale, perché è vero che aumentano i consumi, ma cambia anche l'attenzione nell'approccio a questi consumi, le persone li seguono di più, li seguono meglio, li seguono con attenzione e da lì abbiamo delle ricadute anche in termini di reputazione, di reputazione in termini come brand, quindi quel marchio che rappresentiamo, l'istituzione che rappresentiamo, in reputazione in termini come pubblica amministrazione, perché siamo tutti parte di un ecosistema unico, dialogante, che è la pubblica amministrazione e reputazione anche verso chi gestisce le piattaforme social, ovviamente se siete voi a gestire le piattaforme social siete responsabili in primis, non solo moralmente, ma anche eticamente e professionalmente di quello che pubblicate, dell'immagine che associate e dei contenuti, quindi sono approcci sicuramente importanti. Un'altra cosa importante sul finale di pagina, sicuramente l'influenza che avviene dai social network è fondamentale per contrastare l'influenza negativa e la disinformazione, è importante quindi l'approccio avvenuto ad esempio con Twitter, fra tanti, che ha favorito, ma lo stessa cosa è stata fatta anche da altre piattaforme che si sono allineate, la disinformazione legata al Covid che girava in rete e questo è stato sostanzialmente un primo approccio, una prima policy attivata dalle principali major per contrastare tutte le fake news che giravano nel semestre compreso nel periodo fra marzo e agosto 2020. Quindi cambiano, i vecchi strumenti sono stati utilizzati per nuovi scopi e si è applicato così il loro ruolo nella vita quotidiana delle persone, quindi le persone, vi ripeto, interagiscono in maniera sempre più forte, dinamica e concreta con i social network, audio, coreografie, piattaforme social, c'è un uso molto esposto. Una fotografia dell'AudiWeb di questo mese fotografa sostanzialmente come cambia tra settembre e agosto 2020 il numero di utenti unici, vedete che crescono la total audience degli utenti dai due anni in su ovviamente perché non vengono considerati i bambini sotto i due anni, anche se anche loro accedono regolarmente a contenuti digitali. Vedete come aumenta la popolazione che nel giorno medio entra e si connette a computer, a tablet o a smartphone. Attenzione alla fotografia tablet e smartphone che vengono spesso e volentieri equiparati perché le dimensioni dello smartphone anche dai principali parametri di ricerca vengono spesso riconosciute a quelle del tablet, si stanno identificando, quindi alcuni parametri di ricerca vengono a sparire. Vediamo che aumentano gli utenti unici dello smartphone, vedete pure che gli utenti unici dei device digitali come smartphone e tablet sommati sono molto superiori, più del triplo sostanzialmente rispetto a quelli del computer fisso. Questo è legato non solo al fatto che molti sono in smart working ma legato al fatto che molti operano realmente quotidianamente con lo smartphone e il tablet questo perché? Perché come dicono spesso alcuni professionisti il mio ufficio è lo smartphone, quindi noi adesso accediamo da lì, vediamo posta, chattiamo, utilizziamo chat di servizio, utilizziamo social network, facciamo dirette, facciamo live stream, quindi è diventato un vero e proprio personal computer con dimensioni più ridotte e più trasportabili. Cresce la popolazione, quindi è dove si accede molto di più da smartphone che da pc portatile e cresce il tempo per persona con utenti unici, con il tempo dedicato alla navigazione. Quindi questo è un sdoganamento avvenuto già nel 2015 quando sostanzialmente i dati di connettività da device avevano superato quelli da pc portatile. Abbiamo detto che la popolazione online cresce nel giorno medio potete vedere che la fascia con la maggior presenza è quella tra i 25 e i 34 anni e quella tra i 35 e i 44. Sostanzialmente in tutta la classe lavoratrice in piena forza lavoro tra i 25 e i 54 troviamo sostanzialmente una fascia percentuale maggiore e abbiamo una presenza maggiore degli uomini rispetto alle donne anche se questa è in controtendenza poi su alcune piattaforme social dove sono maggiormente presente le donne. La popolazione online da smartphone una rapida fotografia vedete sempre che la fotografia sostanzialmente è la stessa e coinvolge in maniera crescente tutta la popolazione tra i 18 e i 64 anni scendendo poi in maniera più importante sopra i 64 anni anche qui conferma la presenza più forte degli uomini andando avanti abbiamo una provenienza geografica che evidenza un uso più forte nel nord-ovest è un uso invece meno radicato anche se in percentuali minimi nel sud e nelle isole anche se tutto questo è stato l'impatto è stato ridotto con l'emergenza covid se andiamo a guardare la fotografia due anni fa il divario che c'era tra sud, isole e nord-ovest era molto più ampio molto più esteso quindi su questo il covid ha favorito comunque sia una riduzione del digital divide gli utenti internet sono questi qui vedete anche qui una fotografia di come è aumentato nell'arco di un anno sarebbe interessante vedere la stessa fotografia tra un anno diciamo aumenta l'uso di internet da marzo in poi e quindi la penetrazione di internet in Italia è all'82% ma sicuramente ci darà dati più alti a gennaio del prossimo anno abbiamo sicuramente una penetrazione dei social media in Italia invece che a gennaio del 58% anche qui i dati evidenziano che siamo vicino al 90% di penetrazione social nel mese di luglio 2020 quindi come può essere cambiato l'impatto che può aver avuto il covid sulla comunità e sull'approccio come vi dicevo prima ai social network il numero di connessioni immobili in Italia è diminuito di 2,2 milioni tra gennaio e gennaio 2020 mentre prima era pari al 133% della popolazione totale andando su LinkedIn andando su LinkedIn cosa vi posso dire vedete che un'età media fotografia gennaio 2020 abbiamo una presenza maggiore di maschi e questo avviene anche per esperienza personale sul canale del Mise abbiamo quindi una fascia di età fra i 25 e 34 nella fotografia mondiale questa è una fotografia mondiale ovviamente mentre le altre fasce hanno una presenza minore questo noi possiamo smentirlo in Italia in Italia abbiamo 14 milioni a gennaio 2020 il dato aggiornato a un mese fa è 15 milioni e mezzo di utenti italiani che usano regolarmente e quotidianamente LinkedIn ok sicuramente c'è una presenza in Italia più alta per nell'uso del canale da parte delle donne e quindi sono più donne che sono degli uomini chiedo scusa degli uomini con il 52,7% che sono registrati al canale LinkedIn ma questa è la fotografia di gennaio 2020 potete vedere poi un'altra fotografia specifica su LinkedIn vi dice che sono 706 milioni di membri in tutto il mondo dove l'Italia ha una fetta importante di iscritti che si assesta sui 15 milioni cos'è importante evidenziare? è importante evidenziare che come diceva prima Roberta la gente le persone si connettevano storicamente interlinkedin per poter accedere per poter usufruire per poter leggere sicuramente informazioni inerenti alla ricerca di lavoro per poter scoprire sviluppi anche nel proprio settore di lavoro tutto questo è cambiato nel corso degli ultimi anni c'è stata anche una facebookizzazione come vi dicevo di tutti gli utenti e della piattaforma sicuramente che tende a avvicinarsi per rendere se stessa più vicina e più comprensibile a quelle che sono le dinamiche del settore sicuramente questo ha portato anche a una crescita esponenziale di linkedin e l'uso integrato è importante per riuscire a comunicare con più persone quindi è diventata una piattaforma editoriale e professionale è sicuramente una piattaforma che è utilizzata dai professionisti di tutto il mondo con visitatori quotidiani utilizzata anche da ordini di informazione come il Wall Street Journal o il New York Times piuttosto che sicuramente lo sviluppo di una redazione editoriale all'interno di LinkedIn stesso con una redazione anche destinata a raccogliere favorire informazioni a livello nazionale LinkedIn risulta la piattaforma più affidabile così come evidenziato da report e questo avviene con un percorso di crescita sistemico confermato da oltre tre anni mi dice Daniela Maniscalco che non sente l'audio spero che gli altri riescano a sentirlo senza frizzare io intanto procedo e vado avanti il social network che deve informarsi e prendere decisioni le persone utilizzano quindi LinkedIn anche nel corso del tempo non solo per ricercare lavoro ma per seguire degli influencer presiamo ad esempio Fabrizio Palermo di Cassa Depositi e Prestiti o Alverà di ora un vuoto comunque se va bene Alverà per quanto riguarda l'energia e quindi riuscire a trasformare e comunicare quelli che sono l'operato del proprio ente raccontandole in maniera strutturale in maniera sinergica perché? perché anche l'amministratore delegato di Snama bravissimo grazie Claudia e Anicis anche l'amministratore delegato di Snama come l'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti può raccontare con il suo operato con i suoi social quello che avviene all'interno della struttura che governa la struttura che comunque sia a cui appartiene e questo è anche un senso rappresenta anche un po' un senso di partecipazione di comunità e chi meglio di loro può diventare influencer di quello che viene fatto e svolto all'interno della propria struttura questo viene fatto anche su LinkedIn da altri personaggi anche politici che hanno iniziato a seguire la strada di LinkedIn per raccontare il loro lavoro noi al Mise abbiamo la testimonianza del Ministro Stefano Patonelli del Vice Ministro Stefano Puffani e della Sottosegretaria Mirella Liuzzi che raccontano con regolarità periodica tutti quelli che sono gli sviluppi del proprio operato delle proprie aree di competenza del proprio lavoro anche per il tramite del Ministero dello Sgruppo Economico e delle strutture con cui loro si interfacciano quindi vi parlavo prima di LinkedIn notizie vedete che ci sono 79 mila follower è una redazione gestita da due persone sostanzialmente che cerca di fotografare la situazione italiana e quindi con le principali notizie riprese rilanciate su social network su questo social network sicuramente LinkedIn è un social network da scegliere per fare brand awareness quindi per far crescere anche la consapevolezza la partecipazione al brand per raccogliere anche e unire le persone e i lavoratori all'interno della propria comunità quindi tutta la comunità dei dipendenti che appartengono al vostro al vostro al vostro brand sicuramente è un è un social network che ha un ruolo anche di guida nei canali mainstream vedete quindi come cresce la presenza del brand su LinkedIn e questo è confermato da una serie di dati che sono stati sviluppati nel corso degli ultimi tre anni dove sempre più amministrazioni amministrazioni soprattutto private ma anche pubbliche stanno seguendo stanno scegliendo di partecipare di inserirsi all'interno all'interno del del canale il Mise sostanzialmente noi abbiamo scelto il canale del Mise su LinkedIn è stato aperto il primo agosto del 2018 è un canale che è cresciuto pesantemente confermando quindi che il mondo dell'imprenditoria il mondo delle attività produttive perché il ministero dello sviluppo economico nasce sostanzialmente dall'apportamento di più ministeri poste telecomunicazioni attività produttive e industria sicuramente è attenta a una platea di follower di interessati di imprenditori che sono attenti sicuramente a seguire LinkedIn a seguire il Mise soprattutto su questa piattaforma quindi noi cosa abbiamo fatto abbiamo aperto un canale madre il primo agosto del 2018 abbiamo iniziato a raccontare un po' quelle che erano le attività svolte dal ministero dello sviluppo economico considerate che il ministero dello sviluppo economico al primo agosto del 2018 aveva solo una piattaforma social su twitter con altri numeri molto più bassi in termini di relazione e di ingaggio con i cittadini dal primo agosto del 2018 si decide di aprirsi totalmente al digitale sperimentando quindi quelle che erano le opportunità le dinamiche di questo di questo sistema fra queste linkedin ha rappresentato un po' la scoperta perché nell'arco di sei mesi è cresciuto pesantemente e ci ha portato anche a definire una strategia molto più articolata aprendo delle pagine vetrine tematiche legate agli incentivi alle imprese innovazioni marchi brevetti energie infrastrutture comunicazioni e per non dire mercato consumatori e che sostanzialmente erano collegati direttamente a delle aree tematiche presenti sulla nostra home page perché nella nostra dinamica il portale web non è dissociato dai social network ovvero in specifico noi lavoriamo molto sulle piattaforme digitali cercando di interfacciarci con più persone possibili cercando di raggiungere le differenti platee con linguaggi differenziati diversificati con un piano editoriale in linea con quelle che erano le attività politiche amministrative sviluppate dal ministero la cosa importante però era garantire a una messa a terra delle informazioni che venivano divulgate e che venivano trasmesse quotidianamente e quindi mettendo dando in linea con quelle che erano anche le indicazioni amministrative di dare anche una capacità di lettura di approfondimento e di supporto ulteriore all'utente al cittadino attraverso dei link che rimandavano poi a siti internet dedicati da qui tutto uno sviluppo articolato con i siti internet quindi le pagine vetrina cosa hanno rappresentato hanno rappresentato un grandissimo percorso di crescita hanno garantito comunque sia un indotto ulteriore cercando di portare a un canale mainstream con informazioni pubblicate regolarmente che riprendono anche la grande capacità di partnership del sistema e del mondo del mondo mise sicuramente hanno dato la possibilità di estendere la narrazione di tutto quello che l'ho operato a livello di matto settore noi raccontiamo e questo viene confermato anche dai numeri dai numeri dedicati molto alti di pagine come incentivi impresa marchi e brevetti e fino a trattare temi difficili come l'energia e le infrastrutture dalle estrazioni piuttosto che allo smaltimento dei rifiuti chimici e tossici tutto questo rapporto sicuramente è stato sviluppato non in maniera autoreferenziale cercando di guardare alle partnership al networking come un elemento chiave per raggiungere persone per raggiungere comunità ma in ottica win-win dove ad esempio lavorando con union camera o le camere commercio presenti su linkedin e ovviamente cerchiamo di essere vicini anche a quel territorio questo cosa vuol dire che nel momento in cui o c'è un rapporto diretto e si definisce una campagna congiunta oppure c'è una mentioning noi abbiamo il margine per poter rilanciare per poter raccontare quel territorio per avvicinarci quindi a quella determinata comunità finisce qui il percorso digitale no per niente perché sicuramente noi integriamo tutto questo lavoro digitale con newsletter con una newsletter che esce ogni martedì e che anche lì riprende poi in maniera crossmediale questa attività di comunicazione digitale rivolta anche a settori tematici a asset tematici dietro a cui ci sono sostanzialmente delle direzioni generali perché dietro alla direzione energie e infrastrutture ci sono sostanzialmente tre direzioni e dal lavoro di queste tre direzioni noi cerchiamo di trovare un output esterno su una pagina vetrina i numeri ci dicono che abbiamo ragione perché adesso il canale link che è il secondo canale italiano dopo quello dell'istituto dell'inps con 150.000 follower però è un canale che ha ancora grandissimi margini di crescita e di sviluppo non solo in termini di tag quindi in termini di tematica trattata perché l'utente poi cerca di ritagliare come spiegavo prima il social e il digital sulla sua misura cerca di adattarlo a se stesso quelle che sono le sue preferenze i suoi consumi le sue abitudini le sue necessità d'altra parte però vediamo che il margine è estremamente forte perché la pubblica amministrazione solo svolgendo un ruolo di partnership networking può riuscire essendo l'impresa più grande che c'è sostanzialmente in Italia a rilanciare temi che possono essere di dominio pubblico e di interesse collettivo cercando di raggiungere quello è il nostro obiettivo l'imprenditore a chilometro a chilometro zero quindi attraverso contenuti crossmediali come la newsletter come podcast e attraverso format video format audio l'idea è che tutto possa essere integrato in contenitore digitali utilizzando e rispettando quelle che sono le dinamiche di linguaggio qui potete vedere come una fotografia su LinkedIn ci presenta come nonostante il MISE sia estremamente presente gli imprenditori in Italia sono più di 330 mila solo in Italia più di 3,3 milioni in Europa questo vuol dire che sicuramente aumenterà nel corso dei prossimi anni anche la presenza di imprenditori anche legata anche a un cambio generazionale ma dovrà aumentare parallelamente anche la presenza delle pubbliche amministrazioni perché solo lavorando in maniera integrata lavorando in partnership in modo non autoreferenziale potrà raggiungere i differenti asset tematici legati nel caso nostro marchi, brevetti industrie, energie e via dicendo ma potrà raggiungere anche le differenti fasce di popolazione non so se ci sono domande nel frattempo se no io vado avanti perfetto non ci sono domande mi dicono dalla regia quindi mi spremete fino all'ultimo ok composizione della base follower su link di Noji va bene questo nome devo allargare che lo vedo male sicuramente molti manager molti ingegneri molti comunicatori e amministrazioni di governo abbiamo detto che noi abbiamo questa è la fotografia che vi permetto di vedere come dirvi come mise per farvi capire le dinamiche come stanno come stanno andando noi abbiamo detto prima che ci sono sostanzialmente 330.000 imprenditori presenti su link in Italia ok di questi noi che siamo comunque il ministero dello sviluppo economico ne raggiungiamo 1100 numero più numero meno non fossilizziamoci su questo ok quindi il mise ad oggi raggiunge solo lo 0,3% dell'audience potenziale in Italia ok questo per dirvi cosa sicuramente il mise che fino a un anno fa ci aveva anche il commercio estero che adesso è passato sotto il maesci quindi la farnesina può rappresentare può utilizzare questo canale in maniera un po' più esposta ovvero in maniera più strutturata con utilizzando al meglio quelle che sono anche magari le sponsorizzazioni o le media partnership per riuscire a raggiungere una clientela una degli utenti che sono ad oggi ignoti Fiorella Virgili grazie della domanda che almeno ho rifiato un attimo che tipo di impegno implica alla gestione di LinkedIn per la vostra struttura comunicazione è una bella domanda perché come tutti i social network sostanzialmente deve esserci una presenza costante sicuramente quello il consiglio che do io regolarmente quando si deve definire come operare sui social sicuramente avere una presenza costante fare una strategia scusatemi fare prima un'analisi ancora dello scenario dove siete chi siete con chi operate chi sono i partner potenziali di primo secondo e terzo livello cose come definite la strategia operativa chi opererà all'interno dei singoli social e con che regole di ingaggio sicuramente noi abbiamo fatto tutto questo abbiamo messo nel rosso e bianco con una social media policy ed è importante anche il lavoro che è stato lanciato dal format due settimane fa due o tre settimane fa ora sbaglierò la data ma sul gruppo di ricerca dedicato di social media policy perché una social media policy è un momento fondamentale per dare un po' le regole di ingaggio e dire ai cittadini e alla comunità digitale come ci interfaceremo con loro quindi sicuramente la presenza su LinkedIn è una presenza che deve essere costante non aprite nessun social se non siete in grado di garantire una regolarità delle informazioni ma ancora prima di garantire la regolarità delle informazioni dovete capire che cosa è il social quindi perché può tornare utile e come utilizzarlo sicuramente io quello che io spezzo sempre è una freccia in favore di LinkedIn perché LinkedIn è un ottimo canale è un canale che si presta a un racconto a una narrazione molto semplice e diretta garantisce le stesse funzionalità degli altri delle altre piattaforme e ha dei margini di crescita che sono altissimi ora senza guardare al dettaglio nazionale dove sono 15 milioni di utenti registrati sicuramente questo dato del MISE di 1093 imprenditori lo 0,3% dell'audience potenziale è solo imprenditori perché noi poi abbiamo 150.000 follower quindi questo fa capire che non è solo questione di imprese imprenditori vuol dire anche pensare a tanti altri manager o altri lavoratori che scegliono di seguire MISE quindi analisi strategia e poi lanciare un attimo il cuore oltre l'ostacolo perché comunque la comunicazione è anche innovazione provare a guardare delle cose che tradizionalmente possono non essere alla propria portata ma che possono invece garantire grandi risultati io penso a una camera di commercio come quella sul territorio a un non camera piuttosto che a livello regionale o a una ASL una TS a una struttura sanitaria per non dire regionale che può garantire attraverso LinkedIn una possibilità di agganciare di avvicinare una comunità che magari su Facebook non c'è quindi noi ci avviciniamo con un parallelismo una possibilità di affiancarci con delle comunicazioni che comunque sono un di più di qualcosa che esiste poi la differenza la fate voi con un piano editoriale scegliete di pubblicare lo stesso giorno piuttosto che giorni alternati rispetto alle altre azioni messe in campo sugli altri social sicuramente cambierete il linguaggio mai fare copia e incolla dello stesso testo da mettere su Facebook su LinkedIn su Twitter è impossibile per questione di spazi piuttosto che su Telegram piuttosto che su Instagram la differenza fa cercare di avvicinare il linguaggio alla piattaforma che si usa poi vabbè certi temi devono rimanere gli stessi quindi se dovete parlare di energia va usata la parola energia sta la differenza come la narrate quindi Manuela D'Avanzo mi chiede le sponsorizzazioni sono spesso un problema con una spesa in pubblicità contingentata addirittura zero per la PIA cosa consiglia? questa è una partita aperta che devono svolgere sicuramente i gruppi di lavoro come quello che è stato aperto a Formez piuttosto che quello che è stato aperto alla funzione pubblica dove è sempre presente Formez anche con la 151 e sicuramente su Consip i margini sono abbastanza ristretti anche se Linkedin garantisce una possibilità di sponsorizzazione entro certi limiti mi sembra di 7000 euro una cosa del genere va prima di tutto definita come vi dicevo l'analisi e la strategia se poi rientra utile fare delle sponsorizzazioni perché no? un consiglio che potrei dare sicuramente in termini di momenti di crisi economica di difficoltà congiunturale del paese dei cittadini magari pensare a una sponsorizzazione potrebbe sembrare un'opportuna allora potrebbe essere più utile ragionare in termini di media partnership con un supporto anche di altri partner esterni a una campagna governata a quel punto sì dal vostro ente che vuole raggiungere imprenditori imprenditoria lavoratori del territorio questo potrebbe essere sicuramente un percorso iso risorse per l'amministrazione ma a grande impatto in termini di ricadute in termini di prende perché alla fine nella governance ci siete voi quindi quello che consiglio io è magari più lavorare sulle media partnership ma anche se aprirsi a una gestione più forte di LinkedIn come vedremo dopo attraverso un percorso più strutturato potrebbe sicuramente darvi delle soddisfazioni in termini di conoscenza del pubblico di riferimento conoscenza del territorio perché come vi ho detto analisi 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 guardare i dati guardare chi sono i vostri utenti guardare a che ora accedono guardare che tipologia di utente abbiamo definire le regole di ingaggio come dice Claudio sul policy nazionale quindi come scriviamo che tipo di etichetta se chiediamo Fabiana Bertazzi quello che lei ha definito vetrine tematiche sono di faggio pagine create al di fuori di quello ufficiale del profilo no sono pagine vetrine costruite all'interno del profilo perché noi la pagina vetrina la scriviamo all'interno della pagina ufficiale noi non vogliamo disperdere l'utenza noi vogliamo solo agganciarne altra quindi ci sono utenti che sono interessati prettamente a tematiche come l'energia e le infrastrutture o i marchi e brevetti a quel punto noi non solo gli diamo le informazioni legate a marchi e brevetti ma garantiamo anche la possibilità di conoscere che c'è uno sviluppo economico non a caso la pagina dedicata al Ministero del Sviluppo Economico è solo una le altre sono pagine tematiche ma che danno e che dovrebbero dare nella nostra desiderata delle informazioni sempre più contigue sempre più pressanti sempre più approfondite sui temi sviluppati dalla direzione o dalle direzioni che operano in quel tema l'innovazione in questo caso è la trasversalità cioè noi non leghiamo una pagina a una singola direzione come se fosse il Ministero del Ministero noi ragioniamo in termini di utente l'utente è interessato ai marchi ai brevetti perfetto allora andiamo a raccontargli quella cosa lì l'utente è interessato a energia allora andiamo a raccontargli le cose in energia con tutte le partnership da SNAM a TERMA piuttosto che ENI ENEL ARERA GSE E NEA e via dicendo quindi questo è molto importante per riuscire a creare il networking per creare una comunità poi ovviamente ogni tanto anche lì vengono condivise le informazioni del Ministero perché potrebbe essere anche di utilità per quel tipo di platea Enzo Chiarullo LinkedIn propone push per approfondimenti in stile blog come consiglio utilizzare questa funzione ma sicuramente è una funzione interessante per da sperimentare però partirei magari dalle basi partirei una volta definita l'analisi della strategia partirei in work in progress quindi riuscirei a utilizzarlo nel suo format tradizionale poi anche la base la base semplice essere presenti e dare continuità per Paolo Mancuso le pagine affiliate le pagine vetrine non sono la stessa cosa quindi no perché la pagina vetrina è una pagina che noi abbiamo logicamente una pagina che viene creata dalla pagina madre quindi viene creata direttamente dal Ministero della Sviluppo Economica come se fosse un albero da cui crescono più rami e sicuramente noi dalle pagine vetrina abbiamo dato degli sviluppi tematici tutto lì ma poi sempre nella bio noi andiamo a specificare chiaramente che una pagina pura dell'Uppeggio stampa del Ministero dello Sviluppo Economico vada a memoria e pura della direzione generale XY quindi anche lì siamo abbastanza chiari nei termini di bio quindi per me è quello lì quindi per farvi capire che attraverso attraverso LinkedIn noi possiamo raggiungere molte più persone perché l'indice di coinvolgimento l'indice di di engagement sostanzialmente in cui interfacciamo il nostro audience anche come Ministero quindi di un ente centrale un ente centrale che spesso è la rivalta delle notizie pensiamo a crisi di impresa pensiamo accordi economici pensiamo ad altri sviluppi sicuramente in termini energetici infrastrutturali o in termini di consumatori raggiunge un audience molto bassa quindi questo ci porta a pensare che possiamo soltanto crescere ok quindi riassumendo sostanzialmente la nostra strategia e targettizzando quindi la base dei follower per ampliare quindi il raggio d'azione di comunicazione del MISE e focalizzarci quindi sui nostri stakeholder questo è un'analisi ulteriore che va fatta da parte di ognuno di voi nel momento in cui decidete di aprire una pagina sicuramente il presidio essere sicuramente molto presenti arricchire i contenuti quindi avere dei contenuti dinamici dei contenuti work in progress e tenere costantemente sotto controllo quindi tutti i parametri del canale di comunicazione sicuramente noi abbiamo la possibilità di analizzare i dati di verificare quali sono le ricadute i movi follower gli orari migliori che percezione hanno i nostri pubblici di riferimento se commentano se partecipano se rilanciano se condividono quindi sono tutte azioni che noi possiamo sviluppare tranquillamente con il nostro canale con il nostro canale social quello sicuramente che noi possiamo vedere sia in termini di pagina con una bio che sia molto chiara sia in termini di una bio una fotografia sicuramente che siano molto chiare un'attività con una possibilità di rispondere a richieste a commenti a menzioni sono cose che vanno considerate e che vanno analizzate regolarmente da lì il concetto di presidio regolare quindi costruire la presenza ufficiale è la base dei follower in maniera mirata chi puntate come volete raggiungere queste persone e come volete costruire una relazione con loro usciamo dalla dinamica pre anni 90 in cui il messaggio è unilaterale come guardare la televisione e passivamente gli utenti lo seguono perché in questo caso non lo seguirete non vi acanceranno quindi la cosa più importante è creare una relazione ingaggiarli quindi ingaggiare i professionisti e non perché ci possono essere anche utenze di persone che sono anche in cerca di lavoro ma che sono soltanto curiosi interessate a quelle che sono le dinamiche del vostro ente che sono magari persone interessate terrizionalmente che sono magari persone che vi hanno scoperto attraverso una cross-medialità derivante da altri social network magari avete fatto un rilancio da facebook verso la vostra pagina linkedin piuttosto che su twitter piuttosto che su instagram piuttosto che un comunicato in cui annunciate la presenza anche su altro canale oppure lanciate su telegram questo può essere sicuramente una cosa importante sicuramente la vostra presenza sui social questo lo sapete bene deve partire con una visione di entità che comincia fin dal sito web comincia dai comunicati stampa quindi se i vostri social se fra i vostri social c'è anche linkedin mettete l'iconcina il bottone cliccabile direttamente dal sito o dal comunicato anche il comunicato online può essere cliccabile quindi è importante viaggiare pensando quali possono essere le tipologie di professionisti di utenti interessati quindi a monte c'è sempre il concetto di analisi di analisi interna di analisi esterna ma anche di analisi di tutto quello che può essere la partnership e networking perché lo ripeterò sempre lavorare con altre entità con altri enti con altre istituzioni con altri con altri ruoli con altre persone può essere solo un arricchimento per quello che fate voi in termini win-win poi non guardiamo il fatto chi ha più follower chi ha meno follower l'importante per noi è raggiungere il risultato anche con LinkedIn su quel determinato territorio quindi costruiamo la presenza ufficiale in maniera minata ok allora qui ci possono essere e cerco di rispondere alle domande di prima anche con campagne di follower acquisition che vedremo successivamente e sono l'oggiolente pacchetti che vengono venduti dalla casa madre che possono essere acquistati o tramite o tramite agenzie specializzate o attraverso media partnership o attraverso il concept nella sua fase nella sua fase mirata e poi ingaggiare i professionisti con sponsorizzazioni quindi con pubblicazioni sponsorizzate professionisti che io posso avvicinare in questo caso c'è la campagna di follower acquisition messa da telepass professionisti che io posso agganciare in modalità differenti sicuramente facendogli comparire il mio post su base regionale o posso raggiungere sicuramente una campagna di crescita di follower facendo comparire sostanzialmente l'iconcina di telepass direttamente sulla pagina dell'utente che è totalmente senza informazioni sull'esistenza magari del vostro canale su LinkedIn ovviamente questa è una campagna di follower acquisition che deve essere studiata bene che deve essere che deve essere sicuramente analizzata in maniera approfondita fin dall'inizio e che è mirata se una cosa è parlare al personale agli utenti dell'Emilia Romagna oppure una cosa è pensare a parlare agli utenti di una macro regione del nord o di tutta Italia una cosa è pensare a parlare a una comunità straniera o parlare in inglese quindi cerchiamo di avvicinare sicuramente gli utenti secondo quelle che sono le dinamiche migliori faccio un esempio il commercio estero se tornassi indietro di fare vedere nelle slide che la Cina è l'unico LinkedIn in Cina è l'unico social network di quelli sostanzialmente mondiali che ha l'autorizzazione all'accesso questo è importante perché perché Facebook ad esempio non si può accedere a Facebook in Cina in Twitter e via dicendo LinkedIn si LinkedIn in Cina se vado a memoria credo che ci siano 60-80 milioni di iscritti o 120 milioni di iscritti ma non mi ricordo bene comunque il numero non è importante per dire che anche se fossero 100 milioni di iscritti noi abbiamo la possibilità in termini di commercio estero di Made in Italy e siamo sicuramente l'eccellenza per il Made in Italy quindi sto pensando a canali regionali canali provinciali e canali nazionali che operano in maniera congiunta per favorire il Made in Italy la vendita del Made in Italy magari anche in Cina attraverso delle campagne dedicate su LinkedIn a quel punto non parliamo solo in italiano ma iniziamo a ragionare in termini di dinamiche anche in lingua straniera che sia inglese o cinese a quel punto possiamo cercare di avvicinarci direttamente all'utente ma la stessa cosa come facciamo in Cina potremmo farla a livello globale per esportare il nostro Made in Italy Federica Pistori dice che sono sparite le slide credo che siano operative le ragazze della regia per ripristinare eventuali mancanze quindi prima di andare avanti sto fermo cosa vi devo dire poi possibilmente una strategia always no always on per comunicare i contenuti rilevanti con i vari target quindi le varie iniziative i progetti aziendali la mission la cultura i valori aziendali le opinioni le interviste dei dipendenti possono essere molto importanti logicamente la comunicazione è una comunicazione che per essere forte all'esterno deve essere forte altrettanto all'interno quindi prima di avviare un percorso di comunicazione strutturato verso l'esterno è cosa buona e giusta far conoscere all'interno i propri dipendenti cosa viene fatto come il proprio il proprio brand il proprio ente è presente sul sul sito è presente sui social network e anche per te spesso e volentieri il paradosso è che spesso i dipendenti i lavoratori scoprono le informazioni sul sul proprio ente dai social network o da giornali esterni quindi la cosa giusta è partite da una sorta di engagement interno raccontate con il piano di comunicazione con eventi con momenti formativi anche digitali raccontate con newsletter quello che è il vostro percorso raccontate come siete presenti poi declinatelo con grafiche con visual con una struttura comunicazione più estesa possibile cercando di non dimenticare nessuno ma neanche di ricordarvi che avete la coperta corta c'è la fine dei conti dovete portarla a casa la pubblicazione quindi non potete aprire 60 canali e poi andare in burnout perché non riuscite a gestire 60 piuttosto ne aprite 3 ma li gestite li gestite bene secondo le regole di ingaggio ma fate prendere prendete partecipi tutti i vostri colleghi innanzitutto questi sono comunque sia portatori di un indotto che è esterno familiari amici conoscenti e genera quindi anche brand awareness quindi consapevolezza partecipazione adesione a quello che è il brand se io sono Union Camera della Romagna sono molto felice perché si parla di me piuttosto che e vedo che io sono un impiegato amministrativo qualsiasi dell'Unicamera Romagna potrebbe essere anche quella delle Puglie piuttosto che a quel punto è importante che io mi vedo presente partecipare tanto su LinkedIn quanto su Twitter quanto su altri social ok Pietro Izzo non mi è chiaro dov'era la live page rispetto alla home del canale dell'ente esatto dovremmo avere la possibilità di entrare un attimo dentro lo schermo comunque la live page le vedi direttamente aspetta un attimo che faccio la zoomata sono queste parti qui ok logicamente queste sono parti però che spesso e volentieri ok bravissimo grazie e sono importanti perché ti permettono devi prima di tutto dovete maneggiare il mezzo consiglio è apritelo personalmente iniziate a maneggiare il mezzo iniziate a studiarlo dopodiché quando avete completezza di informazione e del funzionamento della macchina e dopo aver fatto l'analisi della strategia della definizione degli obiettivi dei pubblici di interesse a quel punto iniziate ad aprire un profilo un profilo che si va articolare quella pagina viene creata direttamente da voi la pagina live page e può essere anche partecipata con opinioni e interviste di dipendenti ok però non è una pagina che c'è di default viene creata ok perché potrebbe esserci non interesse di un ente a garantire le partecipazioni le partecipazioni dei dipendenti magari io sono la ditta XY è vero che nessuno criticherà il vostro ente però potrebbe essere che io sono un ente che ha dei problemi di comunicazione interna e da lì riparto al concetto di comunicazione interna allora scrivo le interviste ai dipendenti che salta fuori l'altro che è in opposizione contraria contro tutto il resto del mondo e inizia a offendermi a quel punto però sono presente sul web sul digital quindi mi sono fatto un autogol quindi spesso e volentieri si va per passi giusto una pagina di affiliate le aggiungiamo a noi sì le pagine affiliate le aggiungete voi Patrizia Di Zeo potete aggiungerle voi in alcuni casi le pagine affiliate fa un lavoro redazionale Linkedin e attraverso la sua redazionante nazionale quando vede che le macchine dialogano spesso e regolarmente e attraverso una serie di attività di studio e di ricerca verifica sicuramente se quelle pagine sono da considerarsi affiliate oppure no ok dietro inizio che ho capito occorre visualizzare la nostra pagina come membro e non come amministratore esattamente a quel punto la pagina è disponibile nel menu a sinistra non si chiama live ma si chiama la mia azienda sì sì questa è la presentazione che veniva fatta generalmente però è la mia azienda nel Linkedin italiano dovete capire che comunque questo conflitto ho visto le slide che mi sono andate via ok scusatemi perché a memoria non riesco a farle ok sono ritornate perfetto i banner i banner avete anche sempre la possibilità sui vari pacchetti che possono essere sviluppati sempre con media pass partnership o sponsorizzazioni e via dicendo possiamo avere anche dei banner ok quindi per dare maggiore visibilità al brand dell'azienda in questo caso vedete che dopo le bout noi abbiamo anche un banner che compare come vi dicevo prima a tutti gli utenti che possono scoprire su base regionale o su base nazionale quello che quello che compare oppure potrebbe esserci anche il work with hubs non tutti usano questa funzione ma spesso potrebbe risultare utile soprattutto perché Linkedin ricercare personale attraverso una piattaforma come Linkedin che ha 15 milioni di utenti e che tradizionalmente è utilizzata per la ricerca del lavoro quindi logicamente qua dice i dipendenti di un'azienda ricevono 10 volte la vista le views le pagine aziendale e poi ci abbiamo i sponsor update quindi promuovere e questa è la parte che potrebbe essere più interessante i post della company page per ampliare il target e raggiungere una specifica audience di interesse per l'azienda i sponsor update sono ideali per l'azienda del settore pubblico per promuovere e raccogliere candidature e concorsi io su questo andrei oltre non guarderei solo le candidature e concorsi anche perché sarebbe interessante aprire a una strategia di ampio raggio della pubblica amministrazione dove si cerca di raccontare si cerca di dialogare in maniera unità quale principale impresa nazionale ma sicuramente i sponsor update possono essere interessati ad esempio per tutti gli incentivi che vengono messi sul piatto soprattutto in questo periodo da enti regionali penso alle regioni agli enti come union camera regionale alle camere di commercio al ministero di interesse oppure agevolazioni e spesso e volentieri si ragiona in maniera non sinergica ognuno è autoreferenziale ma il fatto di poter rilanciare sul proprio territorio informazioni di carattere regionale o informazioni di carattere nazionale vuol dire garantirsi come media di informazione per una serie di utenti perché io attraverso la mia pagina union camera posso scoprire informazioni e incentivi agevolazioni messe ad esempio in pista dal ministero dello sviluppo economico e lo sviluppo economico in ottica di dinamica e comunicazione top down può garantire a sua volta il rilancio delle azioni ad esempio messe dall'union camera Emilia Romagna sul proprio territorio questo perché perché saper raccontare anche quello che ci sviluppa sul territorio è fondamentale darà magari la possibilità ad altre persone del territorio che non sono in collegamento con l'union camera Emilia Romagna di interfacciarsi con quella struttura specifica scoprendo che magari ci sono degli incentivi dedicati e viceversa perché la strategia deve essere di tipo win-win quindi gli sponsor update possono essere molto utili ma se utilizzati sempre con un'ottica di strategia quindi ampliare l'audience andando a analizzare quindi la follower base quindi analizzando le condivisioni i commenti l'engagement che è quello che vi dicevo prima ed è un'analisi che voi potete fare direttamente lato 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 desk attraverso il vostro profilo quindi vi faccio alcuni esempi di sponsor updates e poi vi voglio far vedere un'ulteriore analisi di imprenditori italiani per regione se andiamo ad analizzare ad esempio vediamo che scusatemi che cerco di allargare il più possibile vediamo sempre una presenza abbastanza importante di genere maschile gli uomini sono più presenti su questo canale su questo media su questo linkedin questo ci farebbe pensare anche a una serie di dinamiche che ad esempio noi comunicatori a Mise stiamo cercando di fare ovvero in linea con una serie di campagne volte a favorire l'imprenditoria femminile l'idea è manca la presenza di donne imprenditori oppure non usano soltanto linkedin ci sono una serie di campagne volte a incentivare l'imprenditoria femminile come possiamo interagire noi a supporto di queste allora utilizziamo linkedin per cercare di raggiungerle mettendole a conoscenza degli incentivi delle vegevolazioni delle disponibilità perché questo è un rapporto questo è un giorno ancora più forte oggi che la giornata nazionale contro la violenza sulle donne ok abbiamo ad esempio vediamo il Liguria e il Piemonte che ha una presenza molto forte la Lombardia e la Lombardia è il classico esempio dove c'è un grandissimo numero di imprenditoria in imprenditoria rispetto agli altri e poi scendendo vediamo che abbiamo altre regioni come l'Emilia Ruvagna che citavo prima con 27 mila utenti imprenditori registrati su LinkedIn piuttosto che 26 mila della Toscana adesso provo a ritornare indietro ok e dovremmo esserci nel frattempo non vedo più domande scorro ancora per altre regioni ma sostanzialmente i numeri sono quelli la Lombardia che fa da capo sostanzialmente da leader del gruppo e con il laccio a seguire Campania Toscana e questo vi dà anche la fotografia di quello che può essere lo sviluppo sostanzialmente del canale questi sono gli imprenditori che sono presenti nelle regioni italiane e che seguono LinkedIn regolarmente questo quindi sono anche danno un indice di regolarità ma il margine per arrivare a 15 milioni è abbastanza esteso ok questo ve l'avevo già detto quindi l'ho solo ripetuta e questo qua sarebbe sostanzialmente la parte la parte teorica ora non so dalla regia se mi danno la possibilità visto che ci abbiamo ancora 15 minuti 20 minuti di entrare direttamente sulla pagina e fai vedere un po' le analisi dei dati direttamente da un canale Twitter quindi come funziona ok grazie mille ok cerco di perdonatemi devo non l'avevo preparata che credevo ok perfetto ok come innanzitutto vi faccio vedere come comparino le pagine cercando di rispondere in maniera più chiara possibile a quello che è il nostro operato queste sono le nostre sette pagine che gestiamo da mercati consumatori energia infrastruttura comunicazioni marchi e brevetti imprese innovazioni incentivi e il ministero dello sgruppo economico ovviamente il ministero dello sgruppo economico noi abbiamo i nostri 150.000 follower da subito ci dà la possibilità di imprimere un messaggio inerente al covid e questa è una funzionalità che è stata inserita all'interno della piattaforma a partire dal mese di aprile ovviamente ci abbiamo dei hashtag di riferimento e ci abbiamo tutto il nostro panel legato agli strumenti dell'amministratore ovvero dall'invito di collegamenti con cui possiamo invitare i nostri collegamenti a seguire la nostra pagina alla sponsorizzazione di un aggiornamento cosa che non farò ora perché va fatta una una scelta specifica per avviare una sponsorizzazione anche in termini economici alla pubblicazione di un'offerta di lavoro che è collegata sostanzialmente alla sponsorizzazione dell'aggiornamento a creare degli eventi piuttosto che una pagina vetrina poi c'è la possibilità sicuramente di gestire gli amministratori in questo caso per la questione di privacy non ve lo faccio vedere ma qua siamo più amministratori e poi la modifica di un url pubblico o la disattivazione della pagina aspettate che non vedo se c'è una domanda io la pagina non la vedo questo è un problema che deve risolvere la regia Eluisa Crocco allora se la regia intanto riesce a risolvere il problema della ok cosa succede in termini di analisi queste sono gli analisi degli ultimi 30 giorni è un pannello che vi fa vedere voi potete inserire delle foto inserire dei video inserire dei documenti inserire dei sondaggi i sondaggi sono poco utilizzati ma sono molto importanti poi abbiamo la possibilità di informare i dipendenti in questo caso noi possiamo scegliere che messaggio condividere con tutti i dipendenti adesso vediamo un attimo quale può essere quello più utile noi facciamo in questo caso comunicazione integrata fra quella del ministro e quindi un tipo di comunicazione governativa rilanciando quelli che sono nel post del ministro piuttosto che la comunicazione sull'operato di quello che viene messo in campo dal ministero in questo caso ad esempio giusto per farvelo vedere faccio vedere come informo i dipendenti la notizia vi dirà che ho informato 584 dipendenti sui 3000 presenti su Invise e che una nuova sponsorizzazione gratuita che mi viene garantita da LinkedIn potrà essere effettuata solo tra 24 ore ovvero alle 13.12 di domani perfetto in questo modo mi dirà che i dipendenti riceveranno una notifica su questo post e poi mi avviserà quando la notifica strappata è inviata a tutti quanti ovviamente noi possiamo entrare sulle singole dinamiche di visualizzazioni abbiamo di giorno in giorno abbiamo visualizzazioni ovviamente anche là fa parte di una specifica strategia riuscire a vedere quanti lanci fare e questi lanci che tipo di ricadute a seconda dell'orario di preferenza a seconda delle tematiche sicuramente un grandissimo impatto in termini di comunicazione avviene anche durante il weekend quando il lancio sicuramente ha delle ricadute maggiori perché è maggiore il tempo che dedichiamo alla navigazione su smartphone nel tempo libero su social network maggiore soprattutto nei periodi come dicevo io di covid in questo caso le statistiche organiche ovvero non a pagamento ci possono dire che abbiamo raggiunto nell'arco di poche ore 3000 visualizzazioni con un determinato di azione con i click che sono molto importanti e con un determinato numero di condivisioni ok scusatemi un attimo che non vedo nulla ok mi è sparito Adobe Connect quindi la cosa non è buona ok audio ok perfetto ditemi basta che mi vedete e siamo a posto dopodiché ad esempio vi faccio gli ultimi dieci minuti ovviamente qua attività mi dicono posso verificare le richieste i commenti le menzioni i post le condivisioni le azioni ovviamente facciamovi divertire i commenti in alcuni casi noi abbiamo lanciato questa linea questa consultazione pubblica sulla strategia nazionale dell'idrogeno 12 ore fa posso andare a vedere che è importante questo signore che è un CEO è un importante nel settore strategico per cui questo vettore energetico possa essere strumento di sviluppo e via dicendo ovviamente posso vedere anche tutte le persone che hanno messo un mi piace o hanno messo comunque sia una reazione e posso vedere ad esempio in alcuni casi selezionare le menzioni in questo caso sono stato menzionato da Enea o da Union Camere vi citavo prima Union Camere a quel punto come possiamo vedere verificare partecipa alla conversazione mi apre sicuramente un'altra pagina e possiamo vedere che è partita questo webinar di lancio con 1400 partecipanti dove veniamo citati sostanzialmente veniamo menzionati varie imprese noi possiamo decidere di mettere il nostro consiglio oppure di condividere regolarmente così ritornando infine e ci abbiamo gli ultimi 5 minuti non so la regia cosa mi deve dire perché adesso sono solo nella fase condivisione schermo noi possiamo andare a percorso verificare i visitatori quindi abbiamo informazioni sui visitatori e questi qua sono legati al periodo 25 ottobre 24 novembre ovviamente possiamo vedere come cambia l'approccio da desktop che è in blu a mobile che è molto più alto in linea quindi con quella tendenza che ci dicevamo prima possiamo vedere sicuramente come cambia il tipo di dati demografici dei visitatori quindi con business operazioni vendite ci indica anche qual è il nostro target il nostro punto di riferimento ovviamente cambiando il periodo potremmo scegliere di farlo negli ultimi 6 mesi allora a quel punto vediamo come cambia la fotografia se cambio in un senso piuttosto che nell'altro posso scegliere anche di avere una fotografia più ravvicinata sui 7 giorni per riuscire ad analizzare un determinato tipo di campagna idem posso farlo qui sui 12 mesi e vedere quindi come è stato il trend di visualizzazione della pagina con bene o male una media ciclica regolare questo è per quanto riguarda i visitatori poi ci possiamo avere gli aggiornamenti con le reazioni commenti le condivisioni sempre un intervallo di tempo degli ultimi 30 giorni posso avere delle statistiche sulle visualizzazioni come vediamo qua nell'ultimo o negli ultimi 15 giorni oppure sui link questo è molto utile sulle interazioni sulla tipologia di link questo link ad esempio ricerchiamo 10 unità di personale che abbiamo lanciato un'oretta fa che ha già avuto 8 click quindi ha degli indici molto alti con altissime visualizzazioni questo linkedin questo sharing dovrebbe essere di cdp venture capital sicuramente ha avuto anche qua ricadute molto alte per non dire altre cose potremmo andare avanti con la pagina e infine ci sono i follower che potrebbe essere la parte più interessante dove noi ci confrontiamo non solo in termini di sponsorizzati e organici ma ci abbiamo sempre nella fotografia annuale ci abbiamo una foto di come va il trend in termini di nuovi follower ovviamente dopo una fase macro c'è una fase comunque di ricrescita infine nuovi follower che riesco a vedere qui le principali località e questo è molto importante se lo collego a livello generale con quella che può essere l'analisi del mio territorio del mio scenario quindi chi voglio raggiungere come voglio raggiungerlo ok e poi infine adesso Giulio Tomelli ho visto il messaggio adesso riprendo il box e poi come mi comporto questo è l'ultimo mese e ho finito con altre con altri partner con altri enti presenti su LinkedIn vediamo che rispetto ad esempio all'Inps ci abbiamo 6.000 follower in meno noi l'Inps ne ha messi 10.000 nello stesso intervallo di tempo noi 7.500 7.400 e con un numero di aggiornamenti mastodontico con una percentuale che è sostanzialmente simile quindi adesso se io per tornare le domande come devo fare Stefania Mula si ha richiesto si accetto allora io posso anche uscire dallo schermo così magari rispondo alle domande e mi e mi aiuta Stefania un attimo interrompi condivisione perfetto perfetto potete cortesemente indicare l'indirizzo della pagina visitata di Giuseppina Stella quella era Ministero dello Sgruppo Economico per vedere le statistiche da dove devo accedere per vedere le statistiche tu devi accedere direttamente da una pagina che si chiama analisi la trovi negli strumenti dell'amministratore quindi potete guardare direttamente da lì quello che vi ho detto prima aprite una pagina e studiatevela studiatevela a fondo cercate di patroneggiarla cercate di conoscerla cercate anche di approfondire con tante guide tante libri che ci sono presenti nel settore sicuramente il lavoro di social manager il lavoro digitale è un lavoro che impegna a tempo pieno sette giorni su sette quindi cercate di governarla cercate di studiare sempre e di approfondire un po' quelli che sono gli sgruppi soprattutto confrontatevi col benchmark altrui e tante volte ci sono cose che vengono fatte anche da altri enti che non devono essere per forza scopertate ma possono dare degli spunti dei riferimenti per poter essere adattate al proprio territorio no non bisogna avere Bernardo Merico bisogna avere la funzione professionale di LinkedIn per fare tutto quanto detto oppure la versione base versione base questa è quella che hai visto tu era la pagina del ministero di sviluppo economico ed era la versione in organico quindi avete visto cose contenuti che sono totalmente gratuiti logicamente la fase quella non organica quella sponsorizzata è una fase a pagamento e quindi richiede un approccio totalmente diverso ma prima di arrivare a quello magari definite una anche col vostro management definita una strategia specifica Fabrizio Chiari buongiorno Gabriele ci sono quindi delle fasce orale del giorno oppure dei giorni o settimane in quale è preferibile fare aggiornamenti in un post in rapporto ai contenuti a pubblicare su LinkedIn oppure la cosa è irrilevante ma guarda come dice un mio amico piuttosto che niente piuttosto quindi meglio essere presenti e uscire almeno con regolarità almeno una volta al giorno o più volte a settimana questo dovrebbe essere desiderata dipende sempre da quanti contenuti avete e da quanto avete libertà autonomia e quanti siete anche lavorare in ufficio quindi questa è una cosa che deve essere adattata deve essere adattata direttamente sul vostro scenario operativo sicuramente sicuramente se poi andate analizzare i dati su LinkedIn se andate analizzare i dati su Facebook sul sito web i dati di lettura sicuramente andrete a scoprire che ci sono delle fasce orarie e ve lo dico subito generalmente sono queste la mattina quando si va al lavoro metro treno cose del genere per le grandi città a pranzo a pranzo c'è un picco di solito di navigazione piuttosto che la sera dopo le 6 o dopo le 20 soprattutto Instagram e in alcuni casi LinkedIn potete scoprire che lanciare a quell'ora vuol dire triplicare le visualizzazioni come lanciare ad esempio il sabato o la domenica visualizzazioni maggiori perché gli utenti sono più rilassati sono più tranquilli quindi si mettono con il loro smartphone in mano e iniziano a scrollare sostanzialmente seguendo quelle che sono le pagine di riferimento ovviamente dovete arrivare a agganciare quell'utente quell'utente lo potete agganciare o con sponsorizzazioni oppure con partnership oppure pressando e pubblicando regolarmente Laura Bergamini esiste qualche strumento per programmare i post in uscita la piattaforma LinkedIn sostanzialmente no non c'è nulla di nativo di strutturato ci sono altri altri software che danno anche funzioni gratuiti tra cui Otsuite e che garantisce una programmazione una programmazione che può essere settimanale bisettimanale o mensile ma che è contingentato a un numero di pubblicazioni limitate io quello che do sempre consiglio mio è cominciate definite un vostro piano editoriale cominciate così li fate di giorno in giorno e poi gradualmente che avrete forza e competenza e competenza anche di visione potete iniziare a programmarli però la cosa migliore è seguirli step by step day by day e cercare di pubblicare cercando di essere sempre in linea con quella che l'agenda è piena di comunicazione quello che esce dal sistema comunicazione del vostro ente in linea con quello che deve essere scelto dal management e farlo conoscere un po' tutti i vostri colleghi coinvolgere i colleghi vuol dire utilizzarli tra virgolette sfruttarli renderli partecipi anche nella condivisione nella partecipazione di un senso di appartenenza che spesso manca nelle strutture non so se devo passare la linea a Roberta così magari concludo in tre minuti grazie Gabriele io ti ringrazio sia per le informazioni preziosissime sull'utilizzo di LinkedIn ma anche per la panoramica iniziale anche per le riflessioni diciamo sulle conseguenze diciamo anche della pandemia rispetto anche agli atteggiamenti degli utenti quindi ti ringrazio tantissimo per questa analisi ampia e anche per aver fatto richiamo più volte all'analisi dei dati che è fondamentale diciamo che fa parte diciamo poi dell'ascolto ed anche di elaborare un pensiero strategico sui social che è quello che spesso diciamo è più difficile fare quindi dare muoversi diciamo sui social non in maniera diciamo estemporanea ma con una pianificazione con un'attenzione al monitoraggio e con una strategia e questo tra l'altro ci diciamo permette di introdurre anche il webinar del prossimo appuntamento del 2 dicembre che sarà appunto dedicato alla strategia sui social ma anche agli analytics e le inserzioni a pagamento quindi io ringrazio ancora Gabriele Paramara ringrazio tutti i partecipanti e vi do appuntamento al webinar del 2 dicembre arrivederci ringrazio tutti i partecipanti a tutti i partecipanti